Apriamo la seconda parte del telegiornale ritornando a parlare di cronaca. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi insieme a quelli della stazione di Torchiarolo hanno avviato le indagini tesi all'accertamento del movente e all'identificazione di due ignoti malfattori che nel pomeriggio di ieri con il volto travisato a bordo di un motociclo hanno esploso vari colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un 22enne del luogo, un commerciante ambulante di frutta e verdura, dileguandosi poi subito dopo. L'uomo ferito da un colpo ad un anca è tuttora ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi ma non versa in pericolo di vita. Martina Franca negli ultimissimi posti della classifica regionale sulle percentuali di raccolta differenziata, un problema prioritario per l'amministrazione Ancona impegnata nella predisposizione di un nuovo appalto più moderno ed efficace. Vediamo il servizio. Martina in zona retrocessione nella classifica della raccolta differenziata dei rifiuti. Una maglia nera che indossata ormai da qualche anno fa precipitare la città negli ultimissimi posti tra i comuni pugliesi. Martina Franca infatti con il suo 4,03%, i dati si riferiscono ad agosto 2012, e al 231esimo posto su 239 comuni pugliesi che hanno fornito alla regione le percentuali di raccolta differenziata. Primatista della classifica in positivo, invece Rutigliano con il 79,09%, male anche il capoluogo di provincia invece, Taranto con meno del 7%, mentre c'è chissà anche Peggio di Martina, San Marzano di San Giuseppe con lo 0,7% e Maruggio con il 2,36%. Dunque, e questo lo si sapeva già, è certamente gravoso l'impegno portato avanti dall'amministrazione Ancona e in primis dal giovane assessore all'ambiente, Stefano Coletta, sul fronte del miglioramento e dell'ammodernamento del servizio di raccolta differenziata in città. Due assalute priorità per Martina che, se vuole riemergere dai bassi fondi di una classifica certamente non dignitosa, dovrà dotarsi di un appalto al passo con i tempi e rispondente alle mutate esigenze della sua comunità cittadina. Agli strumenti tecnici si dovrà pensare però anche di affiancare una efficace e capillare campagna di sensibilizzazione diretta proprio ai cittadini sui benefici della differenziata e quindi sulla opportunità del suo corretto utilizzo. Intanto, nei giorni scorsi, la Giunta ha sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Comune e il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, finalizzato all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di imballaggio. Con questo accordo, il CONAI, organismo che il decreto Ronchi ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione rifiuti basato sulle discariche ad uno invece integrato, basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio, si impegna a collaborare gratuitamente per redigere un piano industriale di sviluppo della raccolta differenziata. Questo anche in virtù dell'accordo quadro, siglato con l'ANCI, sottoscritto il 23 dicembre del 2008, con l'obiettivo per i comuni che sottoscrivono la Convenzione di ottenere un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti urbani raccolti. Ma non solo. L'esecutivo ancora ha anche deliberato di approvare una Convenzione tra il Comune e il Consorzio Indumenti Usati, un progetto promosso in collaborazione con la comunità Emanuel Onlus di Martina Franca, che quale obiettivo primario avrà quello di definire le modalità di collaborazione delle parti all'attività di raccolta differenziata di indumenti, settore che, se adeguatamente valorizzato, rappresenta una parte del mercato in grado di generare risultati certamente positivi. Da Martina Franca a Fasano, dove si fa sempre più vicina la costituzione del Comitato dei Genitori delle Scuole dell'Infanzia. Ce ne parla Maria Angela Boccia. Prosegue il cammino verso la costituzione del Comitato dei Genitori delle Scuole dell'Infanzia di Fasano. Con l'ultimo incontro, dal tema la definizione dello statuto e dell'atto costitutivo, è stato deciso che i rappresentanti di classe potranno prendere parte alle riunioni del Comitato in qualità di genitori comuni. Il Comitato si propone di monitorare e migliorare le attività scolastiche e di rappresentare i genitori indipendentemente dagli altri organi, come si legge nell'atto costitutivo, di organizzare iniziativa di aggregazione e promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Lo statuto sottolinea la finalità del Comitato, ovvero quello di essere un efficiente collegamento tra scuola e famiglia, operando in maniera apartitica e senza scopo di lucro. La nascita sarà ufficializzata entro domenica prossima con un'apposita riunione. Dentro il 31 dicembre 2012 saranno approvati il regolamento interno per le elezioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglio di Presidenza e il regolamento per la gestione e l'utilizzo dei proventi. E siamo a Fasano dove sono 12 corsi e laboratori in programma per il nuovo anno accademico 2012-2013 dell'Università del Tempo Libero. Prende il via oggi il nuovo anno accademico 2012-2013 dell'Università del Tempo Libero di Fasano. In programma corsi e iniziative per contribuire alla promozione culturale e sociale e per favorire la vita associativa mirando allo scambio di idee e di informazioni. Un programma che non prevede solo corsi ma anche convegni, conferenze, ricerche e studi per diffondere la conoscenza dell'ambiente e il confronto tra culture e generazioni diverse. Intanto sono 12 corsi programmati per i giovedì culturali, l'appuntamento è con la Fasanisità e le personalità di spicco della città. Al centro anche l'educazione alla salute con incontri dedicati al mondo della medicina e alle tecniche di rilassamento. La letteratura e la storia tra i laboratori di scrittura creativa, miti e racconti, le lingue straniere, i libro forum con le letture della Bibbia e di Ignazio Silone, ma anche attività motoria, teatro, pittura, cineforum e fotografia e attività sartoriale, artistiche e di videoscrittura. Lo sport, il calcio con una rete di Gambino siglata dopo 4 minuti di gioco, il Martina supera l'Interregio nell'incontro valido per la decima giornata del girone B del campionato di seconda divisione di Lega Pro e si porta al terzo posto in classifica. In Serie D un buon Brindisi perde invece la sua sfida casalinga contro la capolista Gladiator. Finisce 1-0 per gli ospiti, ma i bianco celesti di mister Francioso sfoderano una buona prestazione che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Dal calcio al basket in pre-impresa in Lega A per l'Enel Brindisi che piega in trasferta il Sassari per 90-78, sconfitta invece in divisione nazionale B per l'Asio Stuni che perde 53-44 contro il Bernalda, sempre in Serie B, sconfitta anche per il Martina per 88-71 contro il Pescara. Infine nella Serie A2 di volley femminile ancora una sconfitta casalinga per la Cedat 85 San Vito che deve piegarsi 3-0 contro il Pavia. Vi lascio ora le news nazionali al TG Femini, da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il DL Stabilità e l'Evoluzione oggi incontro fra il Ministro dell'Economia Griglia e i relatori di maggioranza per fare chiarezza sui numeri. In ballo ci sarebbero infatti 2,3 miliardi di tesoretto dopo la rinuncia alla riduzione delle aliquote IRPEF, il mezzo ritocco all'IVA e l'abolizione delle detrazioni. I capitoli su cui si tratta sono il cuneo fiscale, il rilancio della produttività e nuovi fondi per lo Stato sociale. Si ragiona anche sull'abbassamento o l'eliminazione della franchigia sulle spese sanitarie detraibili e una riduzione dei prelievi in busta paga. Gli Stati Uniti domani al voto per le presidenziali più in bilico della storia. Obama e Romney sono in sostanziale pareggio e saranno gli stati chiave a decidere chi sarà il prossimo inquilino alla Casa Bianca. Certo Romney ha dei nemici famosi anche se non possono votare. Hanno manifestato ieri a Washington contro la sua proposta di togliere i finanziamenti alla TV pubblica e sono sicuramente amatissimi. I Muppets capitanati dalla rana Kermit ma anche da quel Big Bird ancora scottato dall'attacco subito dal candidato repubblicano. Obama 3 Romney 4 sono gli stati che i due candidati alla Casa Bianca visiteranno oggi nell'ultimo giro di appelli agli elettori di una campagna elettorale costosa, dura e molto lunga ad ospitare il repubblicano e il democratico in questi giorni cosiddetti swing states, gli stati in bilico, quelli dove anche un solo voto può essere importante e decidere la vittoria. Tra i due candidati sono strettissimi i margini indicati sia dai sondaggi statali che da quelli a livello nazionale. In gioco nelle elezioni di domani non solo il voto per la scelta dei grandi elettori che esprimeranno il prossimo presidente americano ma anche l'equilibrio dei poteri al congresso con i democratici che dovrebbero conservare una sia pur lieve maggioranza al Senato mentre si prevede che i repubblicani mantengano il loro controllo della Camera. Al via ieri le procedure di partecipazione alle primarie del centro-sinistra partite tra mille polemiche. Il PD si riunisce dopo l'ennesimo attacco di Beppe Grillo nel mirino del comico Matteo Renzi candidato alle primarie che da sindaco di Firenze è accusato di essere assenteiste e di aver creato debiti così non si risolvono i problemi, attacca il segretario democratico e avversario di Renzi Bersani. Intanto Berlusconi chiede scusa agli italiani se ho fallito e per colpa della crisi che ha cancellato i nostri sforzi arriva con vent'anni di ritardo, ironizza Nichi Vendola. Il governo accelera sulle liste pulite, ultimi ritocchi al testo sul decreto legislativo che prevede l'impossibilità di candidare in vista delle prossime elezioni i condannati in via definitiva ad una pena minima di due anni. Il testo è quasi pronto, ha detto il ministro dell'interno Cancellieri durante le celebrazioni ieri per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La bozza dovrebbe arrivare in settimana in Consiglio dei Ministri per essere approvata in via definitiva entro gennaio in tempo utile già per le elezioni regionali in Lazio, Lombardia e Molise. I condannati non saranno candidabili per un periodo doppio rispetto alla pena. Qualche segnale di ripresa solo dal secondo semestre del 2013. Prima invece, previsioni tutt'altro che rose, lo dice l'Istat. Per quest'anno si estima un calo complessivo del prodotto interno lordo del 2,3% dello 0,5% il prossimo anno. Attiso anche un aumento della disoccupazione al di sopra dell'11% nel 2013 e una significativa riduzione del reddito per le famiglie. La spesa per i consumi subirà un calo del 3,2% quest'anno. Che fosse una stangata lo si sapeva dall'inizio ma solo ora. Si sa di quanto. L'Imu tocca le tasche dei proprietari di immobili molto più dell'ICI. Il 207% in più se a Milano si ha un immobile in locazione a canone libero. Il 2330% se a Venezia se ne ha uno. A canone concordato. Si tratta di calcoli dell'ufficio studi di confedilizia. Tre cifre e gli aumenti percentuali per tutti i contratti nei 13 capoluoghi che hanno scelto. L'aliquota massima a rischio, secondo lo studio, principalmente i canoni agevolati che ai privati non convengono più. Violenti combattimenti sono in corso da questa mattina nelle due principali città della Siria, Damasco e Aleppo. Le truppe fedeli al presidente Bashar al-Assad hanno bombardato il quartiere di Hajar al-Aswad nel sud della capitale dopo un attacco alla milizia fedele al presidente siriano da parte dei combattenti dell'opposizione. L'esercito siriano ha risposto con razzi, carri armati ed artiglieria. Ad Aleppo i bombardamenti hanno provocato una vittima, secondo l'osservatorio siriano, sui diritti umani. Non solo il più brutto del mondo, non solo uno degli alberghi più alti mai costruiti, ma anche quello che ha richiesto più tempo dalla posa della prima pietra all'inaugurazione non ancora avvenuta. È il Ryungyong Hotel in Nord Corea, simbolo dello sfarzo e delle aspirazioni dello Stato, governato ormai da una monarchia militare assoluta. L'ennesimo annuncio in questi giorni, l'albergo soprannominato dai medi americani Hotel Doom, ovvero Hotel Condannato, Hotel della Mala Sorte, aprirà i suoi battenti nel 2013, a 26 anni dall'inizio della sua costruzione. La crisi riaccende il feeling tra gli italiani e la cucina, i ristoranti e la spesa pesano sempre più nel bilancio mensile e allora ci si arrangia. Secondo Coldiretti passiamo circa un'ora al giorno al focolare domestico, mentre secondo Coop Italia compriamo sempre più prodotti di base, farina, uova e burro, che si traducono in torta casalinga. Oltre 21 milioni di italiani dichiara di preparare alimenti in casa e se tornano di moda le conserve cresce anche l'autoproduzione. Sul web intanto aumentano di giorno in giorno i siti con i consigli per tornare con gusto alla vita alimentare dei nostri nonni. Fernando Alonso tiene aperto il mondiale ma non c'entra il sorpasso in vetta, il ferrarista arriva secondo ad Abu Dhabi e rosicchia solo qualche punto al suo rivale, Sebastian Vettel partito dall'ultima posizione in griglia e poi strepitoso terzo al traguardo dopo una serie infinita di sorpassi. Una gara con molti colpi di scena, vinta dalla Lotus di Kimi Raikkonen, tornata al successo in Formula 1 dopo tre anni. Alonso è partito bene e ha fatto il massimo chiudendo proprio davanti a Vettel. Lo spagnolo della Ferrari è ora a 10 punti dal tedesco quando mancano solo due gare alla fine del mondiale. L'invidia è risaputo, spesso gioca brutti scherzi. Se poi ad essa si aggiunge anche la rivalità, il danno è fatto. Alla Hamann Motorsport, nota casa automobilistica tedesca, non ne potevano più di Lamborghini fluorescenti o Porsche color verde prato e allora hanno deciso di stupire tutti. Hanno preso una McLaren 12C e questo è il risultato. Una vera e propria esplosione di colori. Per la modica cifra di 95.000 euro la colorazione può essere replicata anche sulla vostra supercar, sempre che ne abbiate una. Il diritto alla salute è un diritto inalienabile, ma in Italia troppo spesso così non è. Diverse sono le cause. Cause che il primo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, organo di federanziani preposto alla tutela del diritto alla salute dei cittadini, ha affrontato riunendo per due giorni a Monte Silvano, Pescara, 600 tra medici, avvocati ed economisti sanitari e 3.000 delegati, proprio per porre a confronto criticità e soluzioni sul tema del diritto alla salute. Il diritto alla salute in questo paese è tutelato, è tutelato dalla Costituzione, è tutelato da interventi legislativi che ci sono stati nel corso degli anni. Naturalmente quelle che sono le norme poi vanno applicate e l'applicazione delle norme non sempre coerente con lo spirito dei nostri padri che hanno fatto la Costituzione o di chi fa le leggi, nel senso che la salute del cittadino, la salute di tutti noi, per essere preservata, per essere implementata, necessita di una serie di interventi che sono abbastanza complessi. Gli italiani sentono molto poco tutelato il diritto alla salute e secondo un'indagine commissionata da Federanziani all'Istituto Piepoli solo il 37% dei pazienti ritiene molto abbastanza tutelato il proprio diritto personale alla salute mentre il 61% lo ritiene tutelato poco o per nulla. Di parere opposto i medici che nel 66% dei casi affermano che i pazienti sono molto abbastanza tutelati. Un camice bianco su tre ritiene invece che i pazienti siano poco tutelati sul diritto alla salute. Un divario questo che la Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute cerca di colmare. Secondo lei quanto è tutelato in Italia il suo personale diritto alla salute? Per me poco, benissimo perché fanno una visita troppo a lungo, hanno troppo, non c'è così come da noi poi non lo so dall'altro posto e come non lo so insomma. Non è tutelato, uno deve fare da solo, io ho scoperto tutto da sola predicando fortemente con la dottoressa di famiglia. Secondo me poco, perché io sono una delle persone che purtroppo mi trovo in una situazione adesso che dovrei essere operato, al ginocchio che ho il menisco rotto e sono sei mesi che sto combattendo a destra e a sinistra senza risolvere nulla. L'indagine dell'Istituto Piepoli, realizzata su un campione di oltre mille pazienti e altrettanti medici ripartiti tra nord, centro e sud e presentata a Montesilvano nel corso del primo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, evidenzia che per i due terzi dei medici i pazienti sono molto abbastanza tutelati. Un camice bianco su tre ritiene invece che i pazienti siano poco tutelati sul diritto alla salute. Secondo lei quanto è tutelato il diritto alla salute in Italia? In teoria molto, in pratica ci sono delle lacune. Io penso che ci sia una buona assicurazione sanitaria in Italia. In realtà se facciamo la media con altri paesi sembra essere nella media alta della tutela. Ci sono molti buchi. Due giorni di lavori per analizzare le criticità delle rispettive aree specialistiche ed elaborare proposte da presentare in tutte le sedi competenti, dalle istituzioni alle direzioni generali di ASLE, aziende ospedaliere. È il lavoro svolto dalle commissioni tecniche dei 15 dipartimenti della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute che, come annunciato durante il congresso di Monte Silvano, proprio per l'importanza del ruolo che svolgono, il prossimo anno diventeranno 40 con il coinvolgimento di 3.600 medici su tutto il territorio nazionale. Io credo che sia stato davvero un incontro molto propositivo e concreto quello che ieri ha visto coinvolti i farmacisti, i farmacolici, i medici di medicina generale e gli avvocati. Il problema dei farmaci è un problema critico nella popolazione naziana. Ci sono delle normative che sono state da poco adottate e che, a nostro modo di intendere, presento le criticità che vanno assolutamente affrontate e ridiscusse anche con gli organi istituzionali. Devo dire che mi aspettavo esattamente quello che è successo. Mentre qualcuno aveva scetticismo, ma i medici, i pazienti... Perché nella nostra natura stare con i pazienti non è un optional, è obbligatorio. Io entro in casa delle persone, ho visto figli, nipoti nascere, eccetera. Quindi stare con i pazienti per noi è sempre stata una forza straordinaria e questo evento fortemente positivo, di grandissima importanza lo confermo. Continua l'impegno di Federanziani nel Solidale con il progetto Kenya, un paese che ha bisogno dell'aiuto di tutti. Ancora una volta con lo strumento della vacanza etica. Federanziani di Solidarietà offre l'opportunità di sostenere attivamente un progetto di rinascita in una terra dove manca ogni cosa, dove un pozzo, una scuola, un dispensario clinico sono indispensabili per il futuro di una comunità. Per far conoscere ai propri sostenitori le opere realizzate grazie al loro contributo Federanziani Solidarietà organizza delle vacanze sociali periodiche come strumento di avvicinamento tra i donatori e le popolazioni destinatari e degli aiuti. Partecipando alla vacanza solidale si sostiene economicamente la realizzazione del progetto in aiuto di una comunità di 50.000 persone, soprattutto bambini, che vivono in piccoli villaggi nell'entroterra di Malindi. E' importante per la vita di queste persone quanto Federanziani Solidarietà ha già realizzato in questa terra ma c'è ancora molto da fare e serve il contributo di tutti. Diritto alla salute, ma quanto è tutelato nel nostro paese? Poco o molto poco per i cittadini, secondo quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per Federanziani. A sentire le voci dei pazienti, infatti, quello alla salute è un diritto che esiste sulla carta ma che poi nella realtà è poco applicato. Pochissimo. Perché? Perché non c'è un'assistenza adeguata per eventuali malattie, eventuali... che uno serve una cosa, diciamo una lastra, un'analisi o altre cose rimandano fino a sei mesi, un anno. Secondo lei, in Italia quanto è tutelato il suo diritto alla salute? Quasi, quasi zero, il 10%. Quanto è tutelato non lo so, però se mi devo curare sono assistente. Non è che mi lasciano così. Se gli italiani sentono poco tutelato il proprio diritto alla salute, non la pensano così i medici. La maggior parte, secondo l'indagine dell'Istituto Piepoli, commissionata da Federanziani, ritiene invece che in Italia sia molto o abbastanza tutelato il diritto alla salute. Solo un camice su tre, infatti, pensa che i pazienti siano poco tutelati. Secondo lei, quanto è tutelato il diritto alla salute in Italia? Troppo poco. O non il giusto? Penso che sia tutelato a seconda un po' anche delle regioni, eccetera. E poi, sì, direi fondamentalmente sì. Secondo lei, quanto è tutelato il diritto alla salute nel nostro paese? Io penso abbastanza, sinceramente, forse anche troppo. Siamo su internet 24 ore su 24 www.trcb.it